Se è formata della ruggine esterna alle parti cromate dell'auto o moto d'epoca, se le togli con un abrasivo rischi di graffiare la cromatura. Se utilizzi una pasta abrasiva puoi pulirle ma la durata d'effetto sarà breve perché non ha una funzione protettiva. Applicando RS con lana d'acciaio fina imbevuta di prodotto puoi togliere la ruggine che si è formata esternamente ma soprattutto successivamente proteggerla dalla veloce formazione di ulteriore ruggine. L'applicazione è facile e veloce e va fatta con una lana d'acciaio fina imbevuta di RS. Strofinando facendo una lieve pressione la ruggine si mischia al liquido per poterla poi togliere facilmente con un panno. E lo stato liquido di RS ha anche funzione lubrificante per evitare di graffiare. RS non contiene corrosivi e si differenzia dai corrosivi perché poi ha funzione protettiva con la più lunga durata d'effetto invece di continuare a corrodere dopo l'applicazione e quindi a lungo termine rovinare la cromatura. Con RS il metodo è facile, veloce e soprattutto protettivo e conveniente. Se la ruggine è molto lieve l'applicazione è anche possibile con la parte abrasiva di una spugnetta per lavare i piatti. È invece assolutamente sconsigliata l'applicazione con scotch bright che usano le carrozzerie perché anche nelle grane fine lo scotch bright è troppo abrasivo e asporta la cromatura creando un danno irreparabile come si può vedere in un tratto che evidentemente era stato trattato con scotch bright. RS è un prodotto italiano esclusivo e brevettato con caratteristiche uniche di protezione che non puoi trovare in nessun altro prodotto concorrente. Lo puoi ordinare sul sito Black Traction e ricevere comodamente a casa ma non lo trovi su piattaforme come Amazon. Grazie a tutti! Grazie a tutti!